Assessore Carpineta, una grande sanità non è fatta di grandi numeri ma di professionalità. Oggi a Lanciano una risonanza magnetica nucleare, quindi un fiore all'occhiello per la nostra sanità. Sì, sicuramente. Come dice sempre il nostro governatore Gianni Chiodi, noi dobbiamo aspirare ad avere grandi ospedali, ma non grandi ospedali in termini di posti letto, di numero di posti letto, bensì i grandi ospedali sono fatti dalle migliori professionalità e dalle strumentazioni più moderne. Quindi quello di oggi sicuramente è un momento importante, è un fatto concreto, come mi piace dire mettiamo un altro mattoncino in quella costruzione della nostra grande sanità abruzzese.